Vedi un macchino anche lì Molto bello Guarda l'andelfort Guarda la terra Il lago di carne è questo, questo è il lago di carne, si va bene, non lo ha messo vicino, ma... Facciamo vedere dentro la Verona, dentro l'Arena, volevo dire... La Verona, 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 volevo dire... Grazie a tutti. Il treno Intercity 1530 proveniente da Roma Termini è diretto a Milano Centrale e in arrivo al binario 3. La prima classe è in coda al treno. Il treno regionale 21-27 proveniente da Piacenza è in arrivo al binario 2. Attenzione a allontanarsi dalla linea gialla, la prima classe è in coda al treno. 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 Il treno regionale 2392 proveniente da Napoli Centrale è in arrivo al binario 8. Attenzione a allontanarsi dalla linea gialla, la prima classe è in coda al treno. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.